Qual è la novità che presentate quest'anno in Fiera a Rimini? Abbiamo sempre più di una novità, quindi distinguendo tra l'isotonico e il cardio fitness, per quanto riguarda l'isotonico, le macchine per lo sviluppo della forza e della massa muscolare, abbiamo presentato la nuova Luxury Line, che ovviamente si posiziona nel top di gamma e anche lì abbiamo aperto un nuovo modo di presentare il design delle macchine e stiamo riscuotendo grande successo. Riguardo il cardio fitness, sempre proseguendo con la collaborazione con Paolo Pininfarina, nome storico, mitico, abbiamo presentato la New Gold, quindi rivisitata nell'elettronica, nel design del computer, e tante altre belle novità.